Su Radio ISAV c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta E come ogni lunedì ovviamente abbiamo ai microfoni di Radio ISAV il nostro Massimo Profeta Massimo buongiorno Buongiorno a te Un abbraccio a te Massimo, noi siamo in radiovisione e lo sai quando vorrai noi siamo qui Faremo la trasmissione direttamente face to face qui nei nostri studi Assolutamente Sarebbe veramente Una promessa, una promessa, non da marinaio Ma torniamo a noi, torniamo a parlare del pescare a calcio perché di cose da dire ce ne sono Come ad esempio tornare a parlare una volta per tutte di una vittoria Massimo Sì, intanto sono ritrovato ma soprattutto una vittoria di inestimabile valore che mancava da troppo tempo Un mese, cioè 11 dicembre trasferta di Monopoli Addirittura in casa da 70 giorni più o meno perché l'ultima prima di ieri era stata quella colmestina del 13 Novembre, stesso risultato Le modalità non sono state identiche perché effettivamente ieri non c'è stata partita Da una parte ecco questo fa la differenza nel giudizio perché da una parte un portiere che è stato il migliore in campo Un bisogno portiere a Vitervese Dall'altra il suo collega, il suo omologo Pizzari che praticamente ha fatto solo lavoro di ordinaria amministrazione Non è stato mai chiamato in causa Quindi questo dice tutto sull'andamento del match Un dominio totale Però ecco, come dicevamo a microfoni spenti Luca, la vittoria è arrivata soltanto al novantesimo Quindi i problemi sono gli stessi In fase realizzativa c'è poca concretezza, poca cattiveria Manca un uomo gol, purtroppo il caso Lescano ancora è risolto Però ieri il pescare effettivamente è creato tantissimo Forse è stata l'unica partita nella quale ha creato almeno 7-8-10 pallegole Io non ricordo altre partite con una quantità industriale di pallegole create nel contempo non concretizzate Ieri è andata così, un po' per bravura del portiere avversario Un po' per mancanza di lucidità, di concretezza e cattiveria sotto porta Però insomma la vittoria è stata meritata E' quello che contava, lo dicevamo alla vigilia Contano i tre punti dopo un periodo gramo Dal punto di vista dei risultati Soprattutto anche se il Pescara era in ripresa Perché lunedì scorso, poi noi non ci siamo sentiti Il lunedì scorso a Crotone Il Pescara ha fatto una buonissima partita Non avrebbe meritato di soccombere Un rigore che grida ancora vendetta Con annessa espulsione di Golemic Eravamo sullo 0-0 Quindi sicuramente il Pescara era in ripresa Lo aveva dimostrato a Crotone E ieri è stato sin troppo semplice Diciamo dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco Del confronto con un avversario Che è arrivato a Pescara solo per fare barricate Per erigere barricate Poi però tu mi insegni Il calcio bisogna segnare E se non fosse arrivato il guizzo di Marco delle Monache Di cui parleremo evidentemente Luca Perché se lo merita Probabilmente ecco appunto il Pescara Non l'avrebbe vinta neanche ieri Eh sì, hai detto bene Insomma è stata dura Nonostante tutto il Pescara ha incontrato Lo ricordiamo per chi non lo sapesse L'ultima in classifica Una vita arbese Che si trova lì in fondo Ha soli 15 punti Punti con 22 gol fatti 37 gol subiti Non è la peggior difesa del campionato Questo c'è da dire E' venuto a Pescara secondo me Massimo Con un'idea ben chiara Fare preramente Mettere il bus davanti la porta E cercare di non subire gol E chiudere la partita in parità La fortuna per il Pescara è stata Che con il guizzo di Marco delle Monache Insomma poi si è riusciti A conquistare i tre punti Importanti anche perché il Crotone Eh se non sbaglio Ha fatto un piccolo falso falso Con il pareggio Sì io sinceramente però Non guarderei affatto al Crotone Il Crotone ha in questo momento 13 punti 13 punti di vantaggio Cioè non scherziamo Il Crotone farà secondo Sicuramente A meno che non crolli il Crotone Ma io non ci credo Perché può capitare Poi il Crotone Secondo me sta facendo Un campionato super Perché Tenere il passo del Catanzaro Cioè il Catanzaro È una squadra di altra categoria Anche ieri Quattro gol al Cerignola Che è una delle squadre Rivelazione No? Una delle rivelazioni In questo girone Secondo me Quattro gol al Cerignola Non è semplice Farli adesso In questo momento Il Catanzaro Ci è riuscito Ma è di un'altra categoria Tra l'altro 62 reti realizzate Il Catanzaro In 23 partite Cioè ragazzi Qui stiamo parlando Di una squadra Di mostri Ottimamente allenata Perché bisogna dire Anche questo Non basta solo avere Grandi giocatori Per la categoria Poi bisogna Metterli insieme Assemblarli Quindi Tutta la stima Per l'amico Vincenzo Vincenzo Vivarini Che merita Di iniziare Questo campionato Stramerita Però il Crotone La persona Ha fatto Un grande campionato Fino ad ora Cioè non era facile Ripeto Tenere testa Al Catanzaro E c'è stato Questo passo falso Che poteva arrivare Anche col Pescara Arrivato A Viterbo Col Monterosi Ha segnato Un attaccante Di origini abruzzesi Rocco Costantino Che è un ottimo Attaccante di categoria E quindi È chiaro Che però Il Crotone Ha troppi Tanti punti Di vantaggio Sul Pescara Quindi Pensare a una Debacle Del Crotone Nei prossime giornate Mi sembra Che salvo Anche perché È difficile Voglio dire Prevedere Preconizzarlo Anche perché Poi il Pescara Luca Deve comunque Dare delle prove Cioè deve Deve dimostrare Che questo è stato Sì Un calcio alla crisi Però attendiamo Verifiche Probanti Soprattutto Quella con il Foggia Di domenica prossima Sarà un test Particolarmente insidioso Test particolarmente Probante Perché il Foggia È una squadra Che è stata rivitalizzata Da Gallo È tornata Al successo Come la Pescara La squadra Rossonera 3 a 0 Sul potenza Che tra l'altro Sta facendo bene Quindi Diciamo che il Pescara Ha vinto Ci prendiamo questo Questo risultato Prendi In carta E porta a casa Come si suol dire In gergo Vittoria strameritata Però aspettiamo Prima di dire Che sia Definitivamente Guarita La squadra Di Alberto Colombo Eh sì Massimo Proprio così Allora andiamo Un attimo Ad analizzare Quella che è stata La partita Quindi io voglio Farti subito Una domanda Quali sono i giocatori Che nella partita Contro la Viterbese Ti hanno colpito Maggiormente Da chi ti aspettavi Di più Allora Io Mi ha colpito Tantissimo Cancellotti Che vabbè Non finisce di stupire Anche se ha avuto 3-4 partite Di Diciamo Di comprensibile Flessione Perché secondo me È stato Tra i migliori Se non il migliore Per rendimento Quest'anno del Pescara Ma soprattutto Perché era il primo In lista di sbarco Io ricordo Perfettamente Le strategie Della società Non si puntava Su Cancellotti Guarda caso Perché C'è poi il paradosso C'è il paradosso Il bello del calcio Non è un paradosso Il bello del calcio Cancellotti E si è guadagnato La stima dell'allenatore Giorno dopo giorno Allenamento dopo allenamento Ha confinato In panchina Saccani Potenziale I titolari Vorrei ricordare Che Saccani Scuola Sassuolo Lo scorso anno Con la di Spesaro È stato uno Dei tre migliori Tersini del girone B Secondo me Il migliore Non voglio esagerare Il migliore Diciamo che È stato tra i tre Migliori laterali Del girone B Anche se Si trova meglio In una difesa A cinque Saccani Ha giocato Soltanto Cento e dieci minuti Invece Cancellotti Ha fatto la parte Del leone Un grande protagonista Ieri Davvero inesauribile Santi Cross Ha avuto vita facile Sulla fascia destra Davvero Mi ha impressionato Ieri è stato Una delle più belle partite Di Cancellotti Da chi mi sarei aspettato Di più Tutta Che a me Sinceramente Continua A non piacere Più di tanto Un giocatore Un giocatore Che fa girare la squadra Gioca per la squadra Però Non fa la differenza Riempie poco l'area Cioè Dal centroavanti Tutti aspetti Che riempie un po' Di più l'area Anche perché Noi abbiamo Degli esterni Si cupone Ce l'ha Diciamo L'attitudine A entrare in area Tant'è vero Che molti dicono Che potrebbe giocare Da punta centrale Come ha fatto Per esempio A Caserta Con Federico Guidi Che da quest'anno Allena la primavera Della Roma Ex Teramo Tra l'altro Però Io dal centroavanti Mi aspetto Una presenza Costante In area di vigore Tupda È un buon giocatore Per carità Non sto dicendo Che sia scarso Tanto per essere chiari Perché fa giocare In un certo modo La squadra Fa giocare bene Tra virgolette La squadra Fa i movimenti Che richiede l'allenatore Però Io mi aspetto Da tutta I gol I gol Purtroppo Da tutta Finora Non sono arrivati Cioè Poi dobbiamo essere Anche Voglio dire Essenziali Nel giudizio E razionali I numeri dicono Che Craia Che tutta Finora Non ha segnato mai In campionato E c'è da dire Mi pare Se non vado errato Tutta Adesso Ho un vuoto di memoria Ma mi pare Che non abbia ancora Segnato in campionato Se non in Coppa Italia Ecco È stato Solo in Coppa Italia Diciamo Ha timbrato il cartellino E quindi Io Ecco Mi aspettavo Una risoluzione Del caso Del caso Lescano Che non è arrivata Ecco Un altro giocatore Dal quale mi sarei aspettato Di più ieri Per esempio Colai Da Colai Mi sarei aspettato Qualcosa in più Perché Colai Comunque Non ha fatto male In generale Diciamo che è cresciuto La distanza Però è un giocatore Perché io mi aspetto Di più da Colai Perché per me È un giocatore Di grandissima qualità Tecnica È forse L'unico Insieme a Marco Delle Monache Che ha la capacità Nell'uno contro uno Di saltare L'avversario Di creare La superiorità Numerica Ieri lo ha fatto In qualche circostanza Ma ha difettato Poi nella mira Cioè voglio dire Il Pescara Purtroppo Lo dicono i numeri Luca Nelle ultime cinque partite Ha segnato solo tre gol Due con Latina E uno ieri Nella vittoriosa partita Con la Viterbese Quindi in tre Di queste ultime cinque partite È stato a secco In termini di gol realizzati Tra l'altro Uno di questi tre gol Messi a segno Su calcio di rigore Nella partita con Latina Quindi c'è un problema Nella fase offensiva E probabilmente Questo caso Lescano Sinceramente Doveva essere risolto In un'altra maniera Secondo me È stato gestito malissimo Io ripeto Quello che sto dicendo Ormai da tre settimane Probabilmente sono l'unico Ma non me ne frega niente Io dico che La vicenda Lescano È stata gestita In maniera pessima Ma perché dico questo? Io non voglio discutere Le scelte dell'allenatore Anche se ci sarebbe Da discutere Sarebbe da discutere Qualche scelta Perché i sostituti Non stanno facendo meglio Di Lescano Come abbiamo detto poc'anzi Però io voglio Dare per buono Quello che dice l'allenatore Perché lui gestisce I giocatori Durante la settimana Io non guardo Gli allenamenti Quindi sarei un presuntuoso Però dico che Il caso Doveva essere gestito meglio Un po' dall'allenatore Ma moltissimo Dalla società Cioè il direttore sportivo È il classico Tredunion Tra lo spogliatoio E il club Cioè funge da cuscinetto Tra le istanze Diciamo così Dei ragazzi Che compongono il gruppo E il club I dirigenti La società Ecco Io mi sarei aspettato Per esempio Una Che ne so Una Una mediazione Eh Una mediazione Da parte del direttore sportivo Che non c'è stata Ma per tentare Di ricucire lo strappo Perché tanto è evidente Lo strappo Ormai Sai Poi passa il tempo E peggio Eh Luca Perché non è che si è fatto qualcosa Per cercare No Di risolvere Il caso Lescano No È un muro contro muro Quindi io mi sarei aspettato Un'opera di mediazione Da parte del DS Dell'Icarri Che tra l'altro Stimo tanto Un amico Quindi io glielo ho anche detto Al telefono privatamente Eh Mediazione che non c'è stata Lui continua a rispondere Bisogna pensare al gruppo E non al singolo Per me questa È una non risposta Perché il gruppo È formato da singoli E poi i singoli Non sono tutti uguali Ci sono singoli Particolari Lescano Probabilmente È un ragazzo particolare Io avrei fatto di tutto Per cercare Di ricucire lo strappo Poi Una volta Tentato Fatto il tentativo Se non c'è alcuna possibilità Ci si dice Arrivederci e grazie Però questo tentativo Non è stato fatto Non è arrivato Un tentativo che non è arrivato L'abbiamo detto Al Pescara mancano i gol Manca il cosiddetto numero 9 Che per buona parte della stagione È stato È stato Lescano Per quanto riguarda Il Pescara Con i suoi gol Che sono arrivati In questo momento Quindi c'è Una situazione Di stallo Che non fa bene Né al giocatore Né alla squadra E questo è quello che Hai ampiamente Come al solito Spiegato Nel migliore dei modi Tu Ma passiamo invece Alle cose Alle note positive Come ad esempio Il primo gol Per di quest'anno Di Marco Dele Monache Che lui commenta Giornate indimenticabile Indescrivibile Il giorno più bello Della mia vita Tanta emozione Per lui Eh ma io immagino Insomma io pure Quando avevo 17 anni E tentavo di fare il calciatore Che ho fatto insomma Qualche esperienza A me era bellissimo segnare No è capitato È chiaro che Non ho giocato in Serie C O in B O in A Come Marco Dele Monache Che insomma è esordito in C Lo scorso anno con Auteri E quest'anno Ieri Ha segnato il primo gol In campionato Dopo averne segnati due In Coppa Italia Con la Vispesa Io immagino Che gioia Ma è così È bellissimo E poi A me piace tantissimo E piaciuta tantissimo La sua frase Mi volevo divertire Cioè ecco Questo è lo spirito Lui è entrato in campo Ma si è visto da subito Sarà stata per incoscienza Per esuberanza Perché sappiamo che A 17 anni Non ti fai tanti problemi No Entri in campo Se hai voglia Vuoi spaccare tutto E lui è entrato in campo È come se volesse Spaccare tutto Con determinazione Una ferocia Incredibile Che io Ho visto raramente Nei giocatori Del Pescara Quest'anno E quello è stato Un gol cercato E voluto Se vai a rivedere L'azione Luca Perché È stato bravo Intanto Bobin Ad anticipare Marotta E quindi ha alimentato L'ennesima azione Offensiva Ma poi sulla fascia Dopo un rimpallo favorevole È visto Cioè come ha sgommato Marco Dele Monache Ha puntato l'area Poi L'ottimo assist Perché quello è stato Quello è stato Una grande giocata Per De Sogus Il suo interno destro L'interno destro Del giocatore Di proprietà del Cagliari L'ha respinta Ha fatto l'ennesimo Quasi miracolo Il portiere Del Intervese Bisogno Perché Quel tiro È stato È stato fatto Molto bene Da De Sogus È riuscito Solo a respingere E si è avventato Come un falco Cioè un guizzo Rapinoso Ha bruciato tutti Marco Dele Monache Perché voleva Questo gol E c'è riuscito Cioè voleva lasciare Il segno Ecco Questa dimostrazione Io spero anche Per il gruppo Che sia anche Un segnale Un po' per tutti Certo Tu mi dici Deve arrivare Da un diciassettenne E perché no Il diciassettenne È esuberante Non si crea Tanti problemi Come ho detto Poc'anzi No È libero Scevero Da condizionamenti Va in campo E gioca Questa è stata La cosa bella Straordinaria Che ha costato Marco Dele Monache Che non ha ancora Fatto nulla Nulla Però Io mi aspetto Da Colombo Un maggiore minutaggio Per questo ragazzo Perché non è possibile Ecco Questo faccio una critica Adesso all'allenatore Ma una critica Costruttiva Non è possibile Che Cupone Anche se ieri È stato sostituito Stia sempre in campo Giochi sempre titolare Non è possibile Che Tupda Faccia 90 minuti Su 90 Cioè Qui ci sono anche Dei ragazzi Secondo me Che meriterebbero Di giocare di più Uno di questi È proprio Dele Monache Spero che sia Arrivato Che arrivi Prima o poi Il suo momento Magari Dal primo minuto Anche se Probabilmente Gettato In corso d'opera Marco Dele Monache Che riesce di più A spaccare Le partite Provo perché Ha velocità A cambio di passo All'uno contro uno E ieri ha dimostrato Di vedere anche La porta Quindi complimenti A Marco Dele Monache Che ricordiamo Compirà 18 anni Il prossimo 3 febbraio L'unico Rammarico Non è più Del Pescara Perché questa è la realtà È di proprietà Della Sampdoria È proprio così Perché lo ricordiamo Lo ha acquistato Proprio la Sampdoria Allora Massimo Vedremo cosa succederà Se ci saranno Dei cambiamenti Tattici Di formazione Nella prossima partita Di domenica Lo ricordiamo Allo stadio Di Pescara Ovviamente la partita Si giocherà A Pescara Allo stadio Di Ratico Giovanni Cornacchia Ve lo ricordiamo Domenica 29 gennaio 2023 Alle ore 14 e 30 Contro un avversario Ostico Soprattutto in questo momento Come il Foggia Sì sì Infatti il Foggia Lo dicevo poc'anzi Il Foggia è intanto Una buonissima squadra Sta segnando con continuità Ogunzei Che l'anno scorso Ha vinto il campionato A Modena Con Sesserri In panchina Ma la squadra Composta da buonissimi giocatori Ci mancherebbe Adesso si è anche Rinforzata Con l'arrivo di giocatori Comunque di spessore Per la categoria Ben allenata Perché Gallo Comunque ha dimostrato Di aver Anzi È stato bravo A rivitalizzare Perché lo dicono i numeri Una squadra Che era lo sfascio Secondo me Allo sbando Con Boscaglia Io mi ricordo La partita di andata Il Pescara Ha dato spettacolo Ma era un Foggia Completamente aperto Era Il Pescara In quel momento Stava Entrando in grande forma Ha giocato una grande partita Per carità Non per diminuire La prestazione biancazzura Ma il Foggia Ha giocato in maniera Troppo aperta E il Pescara Giustamente L'ha punito Insomma Vincere 4 a 0 A Foggia Non credo che sia Cosa di tutti i giorni E quindi c'era Qualche problema Nel Foggia La società È corso ai ripari E Gallo Mi sembra davvero Un buon allenatore Che ha cambiato Il percorso Della squadra Rossonera Che prima Marciva nei bassi fondi Con Boscaglia Adesso comunque È una posizione Diversa Nella gradatoria Ha ancora Diciamo che Non ha ancora Acquisito Continuità Di risultati Perché veniva Da due sconfitte Consecutive E questa è la prima Vittoria del 2023 Però ripeto Il Foggia Non è la vita Armese Questo ce lo dobbiamo Mettere tutti in testa Per me sarà un test Particolarmente Probante E vedremo Se effettivamente Il Pescara È uscito In modo definitivo Dalla crisi Grazie Massimo Grazie mille Per essere stato In collegamento Telefonico Con noi Qui su Radio ISAB Ti ringraziamo Ovviamente Saremo qui Ci ritroveremo Qui da lunedì Prossimo Proprio per commentare Per l'appunto L'incontro di domenica Tra il Pescara E il Foggia Quindi ti auguro Ti ringrazio ancora una volta E ti auguro Una buona giornata Grazie a te Luca È sempre un piacere Un piacere È tutto mio Come al solito Ciao Su Radio ISAB C'è Il Profeta Tutte le verità sul calcio A cura di Massimo Profeta